Buonasera e ben ritrovati a un'altra puntata di SS Aghezzo TV. Questa sera abbiamo fatto irruzione negli studi di podismo dove c'è Fabio Sinatti. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti. Perché? Perché abbiamo letto questo comunicato sull'ultima edizione della maratonina Città di Aghezzo che è stata definita la maratonina dei record, a cominciare dagli alberghi pieni perché si parla sempre di turismo e il turismo sportivo è uno oggi dei traini principali, record di partecipanti, insomma è stata davvero un'edizione con i fiocchi, bastava vedere le immagini, quella folla bellissima che colorava le vie del centro. Però abbiamo letto che c'è stato anche un altro record purtroppo negativo nel vostro comunicato finale. Il record negativo è quello dell'assenza delle istituzioni. Che cosa è successo? Diciamo che le istituzioni hanno creato già delle difficoltà prima ancora di realizzare la manifestazione. Ma sembrava che nei giorni precedenti si fosse raggiunto una forma di accordo, ma non era un accordo, ma soltanto una forma di collaborazione. Che poi invece è stata smentita il giorno successivo questo colloquio che io ebbi sia con l'assessore allo sport e sia con il vice sindaco. Al che ovviamente io sono rimasto estremamente deluso, amareggiato di tutto questo perché come dicevi prima te abbiamo tantissimi partecipanti, abbiamo le presenze importanti per il turismo, persone che occupano la nostra città in maniera predominante. E poi dopo vedi che le istituzioni invece di sostenerti anche psicologicamente, moralmente, fisicamente, perché poi il nostro supporto, sapevamo che le amministrazioni non hanno possibilità di contribuire economicamente, ma potrebbero contribuire in tanti altri modi, quindi mettendo a disposizione a volte anche dei mezzi, delle cose. E questo invece c'è stata assurdità assoluta. Il che ovviamente io sono rimasto estremamente deluso. Allora, visto che noi dobbiamo cercare, cioè la federazione ci ha dato credito per quello che abbiamo fatto quest'anno, quello che abbiamo fatto negli anni passati, l'anno prossimo ci dovrebbero essere addirittura anche i campionati italiani di atletica leggera nel nuovo campo di atletica. Quindi prima di assolvere anche questo compito, noi vogliamo avere le idee chiare. Vogliamo sapere se l'amministrazione in questo caso chi è disponibile a dare un sostegno alle realtà che ci sono nel territorio per organizzare eventi, io non chiedo l'evento del paese, ma un evento che coinvolge la città nella sua completezza, che sono la scalata al castello, i campionati italiani di atletica leggera e la malattia in città d'Arezzo. Se c'è la possibilità, la disponibilità da parte dell'amministrazione, noi possiamo anche continuare. Altrimenti la Polisportiva Policiano e Fabio Sinatti in primis declinano qualsiasi invito, torno a fare l'insegnante normalissimo di educazione fisica, posso fare l'atleta tranquillamente a pieno anche regime, non organizzerò più niente, non mi interessa, mi dispiace soprattutto per la città, perché quella che ci rimetterà sarà la città, non tanto gli amministratori, che loro andranno sempre avanti, faranno sempre le loro cose. Però ecco, l'ultima cosa che voglio dire, che gli amministratori purtroppo sono legati molto ai funzionari. I funzionari non devono svolgere funzione di negazione, ma sono gli amministratori, quindi i politici in questo caso qui, che devono dire apertamente ai loro funzionari dovete attenervi quello che la politica deve dare. Poi ovviamente ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, perché se no qui è quasi impossibile andare avanti e poter procedere in iniziative che poi sono molto spesso tutte realizzate dal volontariato esterno. Infatti ti avrei chiesto se è stato un problema, perché ovviamente tra l'anno scorso e la maratonina di quest'anno c'è stato nel frattempo le elezioni, quindi c'è un nuovo assessore, che è un assessore tanti, è un assessore allo sport, e quindi se è un problema di natura politica, cioè di chi rappresenta in questo momento l'assessorato o un problema invece, come hai detto tu adesso, dei funzionari, che è un problema poi di cui in passato si è lamentato anche il Presidente dell'Arezzo, tanto per dire. Certo, no, no, ma perché qui purtroppo in Italia gli aspetti burocratici sono diventati predominanti su tutto, ma se noi andiamo avanti soltanto con l'aspetto burocratico non facciamo più niente, non facciamo. Io sento anche dal Presidente del Consiglio, dice eliminiamo la burocrazia, ma la burocrazia dipende sempre da noi, dai politici stessi, se non creano delle realtà per sopperire a questi aspetti burocratici ovviamente non si andrà avanti. Quindi è chiaro che se la politica non si impossessa anche, e direi in primis, di poter imporre anche a questi funzionari, di poter dare agibilità, viabilità, funzionalità a tutte le cose esterne, è una cosa impossibile. Faccio l'ultima chicca per chiudere questo aspetto qui, per dire domenica prossima c'è la Corripuglia, un'altra manifestazione diciamo di podismo che si svolge in un'altra frazione in cui i volontari si danno da fare. Gli anni passati avevano disponibilità da parte del Comune per avere diciamo 30 transenne, ecco quest'anno gli hanno detto, dice no, le transenne ve le facciamo pagare, se le prendete con un bonifico bancario prima e dopo ve le diamo. Cioè qui siamo arrivati a questo livello, quando le transenne sono di una struttura diciamo sono del Comune ma sono della collettività e quindi devono essere utilizzate dalla collettività. È verissimo che se me le rompi, me le sciupi, me le devi pagare, ma non questo a priori me le devi pagare come noleggio, cioè noi dobbiamo pagare il noleggio al Comune perché ha queste cose qui che sono già anni che ce l'ha, eccetera. Io veramente sono... Ma questa è una legge che lo impone, che è nuova o no? Cioè che spetta l'anno scorso? Questa è una legge che ovviamente a seconda come tira il vento ognuno fa come gli pare. Quindi vabbè, non si sa cosa aspettarsi allora adesso. Io aspetto soltanto a questo punto qui delle risposte. Ma con la Tanti ci hai parlato? No, io non ci ho riparlato dopo la manifestazione, non ci ho riparlato. Ci ho parlato in precedenza perché ovviamente sono rimasto deluso da quello che mi aveva detto in una sede ben definita in consiglio, diciamo, nella segreteria del Comune di Arezzo in data giovedì quando ci fu il Consiglio Comunale che ci furono altre problematiche di altro genere in cui lei insieme al Vice Sindaco mi asserirono, mi fecero capire, anzi addirittura dettero già dell'input al personale che già la mattina successiva potevano portare, transendi, tavole, eccetera, eccetera. Poi dopo arrivo a casa trovo una mail in cui si è scritto esattamente non possiamo destinare, diciamo, personale a disposizione per conto terzi. Noi siamo in conto terzi quando una manifestazione è per la città. Quindi questo veramente è assurdo e ridicolo, io non riesco a concepirle queste cose. Bene, insomma, bisogna che qualcuno intervenga e anche perché se volete che la città sia visitata, conosciuta e bisogna che chi porta tutta questa gente in città il commercio non va fatto questo pubblicato con gli alberghi pieni. Ecco, io direi proprio quelli che contano a questo punto qui non sono i Fabio Sinatti o la Polizia Sportiva Policiano ma sono quelle, le realtà economiche della città che hanno avuto una ricaduta positiva su questa manifestazione e potranno dire la loro su quello che l'amministrazione svolge perché altrimenti veramente se vanno a finire anche i volontariati così delle piccole realtà come la nostra eccetera io non lo so che cosa farà Arezzo cioè ognuno rimana nel proprio angolino aspetterà che arrivi forse qualcosa dal cielo ma non è che arriva così facilmente senza impegno, senza volontà e senza soprattutto dei progetti ben definiti. Hai citato prima il nuovo campo scuola l'atletica, ma lì la situazione com'è? È a posto o no? Il nuovo campo scuola, guarda, noi fra l'altro ci siamo candidati la federazione ci ha dato credito per fare questi campionati italiani nel prossimo luglio del 2016 che fra l'altro è un periodo addirittura quando ci c'è stata la data la prima o la seconda domenica di luglio no, guarda, la prima scelta, la fiera antiquario anche se potrebbe essere positivo per accogliere molti atleti però capisco che a volte ci sono difficoltà da un punto di vista della recettività quindi la seconda domenica di luglio cioè questo per far capire che il movimento c'è perché abbiamo visto che quest'anno era a Monte Cassino c'erano tantissimi atleti però ecco le difficoltà che ci saranno anche lì saranno sulla struttura che ancora non è efficientemente adeguata per poter accogliere ma questo serve anche a stimolare io dico, a stimolare, a migliorare quindi a perfezionare l'impianto di atleta leggera per poter sopperire anche questi eventi perché quest'anno sarà il campionato dell'anno master ma perché no, in un futuro prossimo potrebbe essere anche un mitighe a livello internazionale che possa dare privilegio e prestigio alla città di Arezzo Bene, grazie a Fabio Sinati speriamo che queste parole siano ascoltate e ci vediamo domani insieme